Davide Mezzanotti, sconfitta Amara contro il Ponsacco, una gara, lo diciamo noi, ne decisa dall'arbitro. Ma ci sono state decisioni abbastanza discutibili, una gara che secondo me noi non meritavamo di perdere, dove i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto un ottimo primo tempo, dove in un secondo tempo equilibrato, dove non c'erano avvisaglie, dove non potessimo prendere gol, poi è venuto fuori un po' di parapiglia, è venuto fuori un po' di confusione, due espulsi, un rigore, quindi lì la partita si è decisa, ma noi dobbiamo pensare a noi, non a quello che ha fatto l'arbitro. Parlando della gara di domenica e cercando di analizzarla fino in fondo, una sconfitta ci potrebbe anche stare, però domenica c'è Siena e la squadra è sinceramente decimata dalle squalifiche. Quello che dispiace è magari non potersela giocare con il Siena, con l'organico pieno. Ma noi andiamo a Siena e ce la giochiamo comunque e sempre, perché siamo costruiti con una squadra che ha dei valori particolari, dove fino adesso è capitato altre volte, ci sono mancati dei giocatori e abbiamo fatto ottime partite, magari non tanto a Biancastagnaio, mi dispiace solo perché credo che questa sia una partita dove tutti quanti ci temono a essere in campo, a dare il massimo e anche a me dispiace non poterla affrontare nel completo della mia formazione. Però credo che a oggi posso dire che posso contare su tanti giocatori, non abbiamo un fuoriclasse, abbiamo tanti ottimi giocatori e andrò a pescare gli ottimi giocatori che ho. Un dispiacere particolare ce l'ho forse per Chiasserini, perché capitano a Siena penso sia una cosa bella, però sarà Gorini e sarà lui a guidare questa truppa. Lo diciamo, anche tu dovrai, credo, vederla partita dalla tribuna, però c'è chi dice che un allenatore la vede meglio dalla tribuna, soprattutto se parliamo dell'Artemio Franchi di Siena, dove c'è una visibilità perfetta. No, no, ma sicuramente, speriamo che la vedo meglio. L'unica cosa che magari in certi stadi, come il nostro, se tu sei in tribuna puoi comunicare con l'allenatore in seconda, puoi comunicare con i giocatori in campo, perché sei vicino, lì sarai molto lontano, però ho tantissima fiducia nel mio secondo, Nicastro. So che è molto bravo, sa come lavoriamo e partecipe tutta la settimana, quindi sarà lui l'allenatore domenica e sono convinto che farà molto bene. Poi ripeto, i ragazzi che vanno in campo dovranno dimostrare sicuramente una prova di carattere, perché giochiamo contro la squadra molto forte, però è anche vero che in teoria, ripeto, in teoria non abbiamo niente da perdere e quindi possiamo andare là e giocarci la viso aperto. Un'ultima battuta, le ultime due gare ci dicono di un Vivi Alto Etevere San Sepolcro, reduce da due sconfitte, quella con Pian Castagnaio ci sta, è meritata. C'è ancora un po' di rammarico per quella di domenica scorsa, forse è arrivato anche il momento di fare un piccolo bilancio. Soddisfatto o ci poteva stare qualche punto in più? No, ma sono soddisfatto, ma sono soddisfatto perché ho visto una squadra che è cresciuta settimana dopo settimana e quindi di questo sono molto soddisfatto. Pian Castagnaio è stata una partita dove non siamo stati noi stessi e quindi abbiamo perso, ma anche giustamente perché io credo che è ancora in certi valori, dove uno deve meritare la vittoria, poi l'episodio fa la differenza sicuramente, però la devi meritare. Quella di domenica io mi sento di dire che i miei ragazzi sono stati bravi, sono stati favolosi, hanno assorbito la sconfitta di Pian Castagnaio e hanno fatto vedere quanto sono forti, perché giocando contro una squadra attrezzata per vincere il campionato, una squadra forte, una squadra che molto probabilmente ha investito tanto più di noi, la partita l'abbiamo fatta noi, il primo tempo specialmente, non si ricordano parate del nostro portiere, quindi questa di domenica ci deve far capire che siamo bravi, non dobbiamo piangersi addosso e trovare alibi sull'arbitro, l'arbitro ci sono, quello di domenica probabilmente ha fatto degli errori, però ci stanno nel calcio, non pensiamo ad andare avanti e continuare la nostra crescita, noi sappiamo che il nostro campionato è duro e lo sapevamo all'inizio, anche quando le cose giravano tutto a mille, le nostre vittorie erano frutto di un lavoro, di concentrazione, di cuore, di tanta grinta e quindi dobbiamo solo continuare a lavorare.